A quale nuove analisi dell'Asla hanno confermato la presenza di alluminio in due fontanelle, dopo quattro settimane rimane la non potabilità. Terme il sindaco Tidei assicura si faranno al via un tavolo tecnico con la società Cantus per studiare l'iter corretto. Bax Gianluca Branco sfiderà Christophe Vienias per il titolo dell'Unione Europea, il match andrà in scena il 10 novembre al palazzetto dello sport di Civitavecchia. Nuova edizione del telegiornale Alto Lazio, ben trovati, niente da fare per l'acqua Civitavecchia è ancora in vigore per la quarta settimana consecutiva. L'ordinanza di non potabilità in buona parte della città. Erano attesi per ieri i risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati la scorsa settimana dall'Asla Roma F. Analisi che dovevano essere poi comparate con quelle del laboratorio al quale si è affidato il comune. Ma ancora nulla in base agli esiti del confronto. Il sindaco deciderà se confermare o revocare l'ordinanza di non potabilità. Per ora le analisi del pincio, sia sulla presenza di colibatteri, sia sui policloruri di alluminio, hanno dato esito favorevole. Istituire un tavolo tecnico formato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale dell'ufficio legale del comune della società Cantus per intraprendere l'iter corretto e la procedura più efficace e seria affinché Civitavecchia abbia finalmente un impianto termale. E' questo il risultato dell'incontro che si è svolto ieri al pincio. L'obiettivo dell'incontro, spiegano dal comune, era quello di fare finalmente chiarezza su una vicenda che ha mostrato tutti i limiti della passata amministrazione, che ne fece più che un obiettivo programmatico, un mero strumento di propaganda elettorale. Questa amministrazione al contrario vuole davvero investire sul comparto termale. Si è dunque stabilito che la priorità sarà quella di istituire un tavolo tecnico. In questo percorso la priorità per l'amministrazione sarà la realizzazione dell'impianto termale pubblico con appropriato strumento concorzuale e con un apposito accordo di programma per la valorizzazione dell'intero comparto termale. E' botta risposta tra amministrazione comunale ed ex sindaco Moscherini sulla vicenda HCS. E' preciso dovere del sindaco in quanto pubblico ufficiale, spiegano dal pincio, comunicare alla magistratura fatti criminosi dei quali viene a conoscenza. Motivo per cui, bacchetto e il consigliere Moscherini invitato dai vertici di Palazzo del Pincio ad attendere tranquillo gli esiti dell'attività di magistratura e tribunale e Moscherini punta il dito contro T-Day che preferisce insultare me, ha spiegato piuttosto che cimentarsi spiegazioni per le quali è in evidente difficoltà. Moscherini non risparmia colpi nemmeno a Santori, invece di blaterare su HCS farebbe bene a dire al suo sindaco di portare questo argomento all'attenzione dell'aula Pucci, come peraltro già richiesto a più riprese dall'opposizione per un confronto in cui emerga chiaramente lo stato dei fatti. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'ex presidente del Tribunale di Civitavecchia Mario Almerighi contro la decisione del CSM di non rinnovargli l'incarico, assenza del Fumus Boni Iuris, ovvero del buon fondamento giuridico. Questo è il motivo della decisione. Ed ora parliamo di ASL garantire a tutti i detenuti l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura sulla base degli obiettivi generali di salute, dei progetti specifici e dei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla Regione. Sono questi gli obiettivi della Carta dei Servizi Sanitari per i detenuti delle due carceri di Civitavecchia approvati dall'ASL Roma F. Sentiamo le interviste di Sonia Bertino. Di sanità in carcere possiamo sicuramente parlare con due direttrici dei due carceri qui a Civitavecchia. Sì, anche per me non mi stancherò mai di ripetere che questo è il frutto di una prassi, di una prassi di anni, di un lavoro fatto insieme. Questo è soltanto il coronamento di questa attività che esiste da anni, su cui abbiamo lavorato, continueremo a lavorare e miglioreremo tutti con le nostre diverse professionalità rivolti verso la massima attenzione per chi ne usufruisce. Una sanità all'interno del carcere che, come ha detto il procuratore, è cambiata in questi anni col passaggio della sanità penitenziaria all'azienda sanitaria? Sì, ci sono state delle integrazioni di servizi, un maggiore rapporto con il territorio, con i presidi ospedaliari esterni, l'ingresso del distretto di salute mentale all'interno del carcere, un coordinamento maggiore sugli operatori che agiscono sulla malattia mentale e quindi possono assistere durante il percorso penitenziario il detenuto e tutto questo non ha fatto che arricchire l'istituto e tutti gli operatori che all'interno di esso operano. Passa ufficialmente stasera il sipario sulla nuova stagione del teatro Traiano. I riflettori si accenderanno su Massimo Ranieri, scena con il suo Viviani Varietà. Sarà ancora l'amato artista di inaugurare la stagione. Appuntamento questa sera alle 21 per il turno C, domani alle 21 per il turno A e domenica alle 17 per il turno B. Il sindaco Pietro Tidei sta trattando con Salvatore Barone per l'acquisto e l'affitto della Chiesa degli Angeli e dei Martiri al Porto. A tal proposito interviene anche l'assessore all'ambiente Roberta Galletta, da sempre attenta al patrimonio storico Civitavecchiese. Sentiamo l'intervista. Sempre perché ci leghiamo al fattore del patrimonio artistico di Civitavecchia, abbiamo parlato prima pure in conferenza stampa a proposito della chiesetta quella del Porto. Sì, allora, dopo tanta attenzione che ci è piaciuta sicuramente, perché vuol dire che quello è diventato un luogo importante per i Civitavecchiesi, il sindaco Pietro Tidei sta trattando l'acquisto o eventualmente l'affitto di quel luogo e potrebbe diventare, ecco l'idea è quella di farla diventare, come già è stato sostenuto da vari storici come Enrico Ciancarini e Toti, la porta d'ingresso alla Civitavecchia sotterranea che noi abbiamo sponsorizzato in campagna elettorale. Quindi sotto Corso Marconi c'è tutta quest'area archeologica che potrebbe essere visitata entrando direttamente dalla chiesetta del Porto. Quindi forza, coraggio, rimaniamo tutti insieme e speriamo, insomma, crociamo le dita che questa operazione vada bene. Grazie per le interviste di Fabrizia Caputo. Professor Panzetti, Dante e Virgilio, corrispondenze stilistiche, è la sua ultima creazione, un tributo alla letteratura italiana. Cosa possiamo aspettarci da questo libro? Innanzitutto questo libro è ad uso delle scuole, dei studenti e prestudiosi, quindi è un repertorio che io modestamente lo chiamo repertorio, però è anche un tentativo di esplorazione di un poeta o di una lingua che oggi subisce un attacco frontale da dialetti e lingue straniere e quindi Dante per me è stato in questo momento l'elemento che ancora resiste a questo impatto mediatico. Quindi la lingua italiana come riscoperta è il valore di una nazione, di una storia. Sarà oggetto di studio nelle scuole? Sì, perché la fondazione, all'acquare io debbo la pubblicazione di quello, si distribuirà proprio alle scuole ad indirizzo classico e scientifico dove si studia il latino. Il libro è gratuito in modo che si possa così diffondere intanto con questo piccolo seme a Civita Vecchia, con la speranza che poi possa così diffondersi in altre scuole. Un tributo alla letteratura italiana che andrà gratuitamente nei licei della nostra città. Sì, diciamo che questa sera è un appuntamento abbastanza importante perché il professor Pranzetti fa parte di quella schiera di autori dell'IT, oserei dire, insieme al dottor Bianchi, al dottor Giardi, al professor Peris, che si dedicano molto agli studi classici, alla metrica. Cioè, voglio dire, si vola un po' più alto rispetto a quello che succede normalmente. Questo è un libro molto particolare, molto bello e molto interessante. Quindi la fondazione non poteva certamente esimersi dal pubblicarlo e sicuramente di portarlo, di consegnarlo in questo caso addirittura agli insegnanti, che poi potranno, come diceva giustamente il professor Pranzetti, prevalentemente nei licei, cioè dove si studia la materia classica, sia in italiano che in latino, affinché si possa fare una lettura di questo importante testo e si possa acquisire sempre di più a livello culturale. La centrale a biogas di Montalto di Castro, l'area nei giorni scorsi, è stata sottoposta a sequestro da parte dei carabinieri del maresciallo Zampone, che hanno effettuato delle verifiche sul posto. Il progettista dei lavori, il rappresentante legale di una società straniera e il proprietario di un'area per lo sbancamento di un terreno situato alla marina, sono stati denunciati per aver eseguito i lavori senza alcun titolo abilitativo. I militari, con la collaborazione dell'ufficio tecnico del Comune, hanno posto sotto sequestro il terreno di circa 3 ettari nei pressi del canile municipale. L'impianto avrebbe trasformato in energia i composti di materie organiche derivanti dalle lavorazioni agricole. Le presunte irregolarità contestate dai carabinieri riguarderebbero i documenti presentati dal proprietario del terreno stesso all'ufficio tecnico del Comune. Un inizio lavori che sarebbe risultato non conforme alle opere che i mezzi meccanici in azione stavano eseguendo. E intanto il forum Refuted Zero Lazio ha scritto una lettera al presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, apprezzando la sua disponibilità ad ospitare il lancio della campagna globale sulla sovranità dei semi o banca della biodiversità. Ma allo stesso tempo critica il presidente per non aver preso le distanze, o meglio per non impedire, il Bonario lascia passare a progetti di centrali a biomassa, come quelle di Pian della Carlotta a Cerveteri, di Maccaresi a Fiumicino e di Arcinazzo. Siti tra l'altro non idonei per mille ragioni ed incompatibili con ambienti e paesaggi di bene comune. Ancora un arresto effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Tarquinia, guidati dal luogotenente Stefano Girelli per la coltivazione illegale di marijuana. A cadere nelle maglie della giustizia è stato un 44enne sorpreso in un terreno in uso nella zona di Marina Velka, con quasi duetti di marijuana, già confezionata in diverse buste di cellofan pronte per essere smerciate. Il Tarquinese coltivava diverse piante di canapa indiana, i militari hanno trovato alcuni esemplari in via di essicazione ed altri che, seppur di piccole dimensioni, per via del seme selezionato e manipolato da mani esperte avevano già raggiunto l'infiorescenza. I militari del luogotenente Girelli nel corso della perquisizione domiciliare hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione ed alcuni grammi di ascice. L'arrestato dovrà ora rispondere di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora andiamo a Santa Marinella. Sembra fermo presso il Comune per via di un problema tecnico. Il progetto proposto alcuni mesi fa dall'amministrazione comunale relativo all'installazione dei distributori di acqua potabile. Attualmente sono tantissime le cittadine che hanno installato questo sistema di erogazione di acqua liscia o gassata a prezzo politico. Quindi anche la Giunta Bacheca ha ratificato la delibera con la quale si dà il via libera alla collocazione di tre distributori d'acqua automatici ubicati in diverse zone della città. Si tratta di impianti di distribuzione dove i cittadini potranno soffrire di acqua potabile acquistabile a prezzo agevolato tramite un'apposita card che sarà successivamente distribuita sul territorio comunale. Gli impianti il cui acquisto e installazione sarà a carico della ditta vincitrice dell'apposito bando saranno ubicati presso il Parco Maiorca in via Aurelio Saffi, il Parco Martiri delle Foibe in via Lombardia e Santa Severa in zona 167. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà sempre a carico della ditta che installerà inoltre all'interno dei distributori dei sistemi di controllo dell'acqua. All'interno dei distributori, spiega il sindaco Bacheca, sono installati degli appositi strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'acqua, nonché del funzionamento dell'impianto. L'impegno che questa amministrazione sta mettendo nel settore ambientale delle energie rinnovabili conclude il primo cittadino e senza precedenti. E non è passata neanche una settimana e già si torna a parlare di problemi e disagi per i pendolari della linea FR5. Ieri mattina a Nuova di Sé alle 7.59 il treno 32.55 diretto da Grosseto a Roma passando per la Dispoli ha regalato un'altra giornata di passione per i viaggiatori. A segnalarlo ancora una volta è Roberto Erter, presidente del comitato pendolari litoriano Roma Nord che parla di una ordinaria giornata da pendolari offerta da Trenitalia, Regione Lazio e Governo grazie alle loro inefficienze e continui tagli ai servizi. Il treno racconta il presidente Rastracolmo e per giunta la Dispoli si è fermato molto dietro rispetto alla normale sosta con la conseguente corsa di centinaia di pendolari verso le prime due carrozze e la perdita di tempo nel tentativo di far salire tutti a bordo. Il convoglio è riuscito a ripartire dalla stazione di Ladispoli solo alle 8.09 giungendo alla stazione successiva a Palidoro torno in pietra alle 8.12 con 10 minuti di ritardo. E qui stessa scena fermata più avanti rispetto al previsto e attesa per salire tutti con strilli e urli. Arrivo alla stazione di Maccarese e Fregione alle 8.25 tra i 10 minuti di ritardo il treno è ripartito alle 8.28 accumulando 15 minuti di ritardo e lasciando a terra più di 50 pendolari. Non è andata meglio a chi era a bordo del convoglio. Come al solito all'interno mancava aria. Alcuni strillavano per un centimetro di spazio. Insomma stesse scene e situazioni riprese da tutte le reti pubbliche e private già la scorsa settimana. Ed ora la consueta pagina sportiva. Gianluca Branco tornerà finalmente a calcare un palco scenico che conta il 10 novembre prossimo. Infatti Silver Horse sfiderà a Christovienias in un match valevole per l'assegnazione del vacante titolo dell'Unione Europea dei Vesi-Welter. La contesa si disputerà al Palazzo dello Sport di Civitavecchia. Due palmares che non hanno bisogno di molte parole e che con i soli numeri descrivono il blasone dell'incontro. 45 match vinti. Tre persi e un pari per Gianluca Branco. 42 vittorie, quattro sconfitte e un pari per il polacco. Il pugile di Civitavecchia all'età di 42 anni non sembra proprio volerne sapere di smettere. Anzi la sua ambizione è di gran lunga superiore alle sue primavere. Branco si è sempre detto in perfetta forma fisica e con tanta voglia di raggiungere un traguardo importante. Magari quel mondiale che gli sfumò sotto le mani in terra americana. La strada che porta alla gloria però passa per Civitavecchia. Il 10 novembre Silver Horse dovrà abbattere l'ostacolo polacco. Ed ora calcio a 5. Inizierà con il botto il campionato femminile di Serie D. Il calcio a 5 nostrano offre infatti un derby tra due squadre che promettono battaglia. La tirrena del presidente Ermanno Muneroni sarà ospitata infatti domani alle 18 dall'atletico Civitavecchia. Ed ora palla a volo Pino Postorino, storico giocatore degli anni 60 e 70 e il nuovo direttore sportivo della B2 maschile dell'ASPA allenata da Alessio Pignatelli. Dietro il nuovo ingresso il lavoro continuo ed appassionato della direzione generale di Memmoli. E infine palla a nuoto. Grande partenza per la palla a nuoto femminile Civitavecchiese. Martedì scorso infatti è iniziata la preparazione della Coser in un ambiente estremamente energico e propositivo. Fabio Cattaneo, allenatore del gruppo Bianco Blu, spiega nel dettaglio l'organizzazione atletico natatorio delle Valchirie. Il gruppo ha risposto subito forte alle esigenze della società. Le ragazze sono sembrate subito tutte pronte e motivate. Rispetto alla precedente stagione, per ciò che concerne il potenziamento, abbiamo deciso di optare per la totale ed esclusiva partecipazione natatoria. La sessione in palestra possono essere un'incognita sotto il profilo della risposta muscolare. Singolarmente ogni atleta può avere reazioni e tempi di recupero diversi. Lavorando in acqua invece siamo sicuri delle rispondenze della produttività e resa atletica del singolo. Adesso dobbiamo lavorare molto ed insensificare il fondo ancora più intensamente delle precedenti stagioni. Il 27 gennaio inizia il campionato e Vorrella con pagina pronta fisicamente. E noi ci fermiamo qui. Il telegiornale Alto Lazio torna con una nuova edizione alle 19.45. Come sempre grazie per la cortesi attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.